Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video su Bella Faccia TV Come state? Spero tutto bene Oggi un gioco veramente particolare Guardate dove ci troviamo Ma questo qui è Kirby Questa palla che salta Chi di voi conosce Kirby ragazzi? Allora, per questo video io voglio Almeno, ma dico almeno 5000 mi piace Ma nelle prime due ore Subito ragazzi, immediatamente E potremmo farci una serie Perché è veramente divertente Sto giocando con la mia Nintendo Switch Come potete vedere Perché questo gioco è fantastico Ma copio un pochettino StumbleGuys Come? Ve lo faccio subito vedere Allora, come potete vedere Ci sono un sacco di torte E oggi dobbiamo mangiare Questo gioco è bellissimo, vi giuro Possiamo sia giocare da soli Vediamo un po' Battaglie oppure online Io direi subito di provare online ragazzi Ragazzi, ma mi sta venendo fame Mmm, guardate che torta appetitosa Comunque questo gioco, ragazzi Ha una modalità che sembra Uguale a quella di StumbleGuys Aspettiamo gli altri giocatori E iniziamo subito a divertirci Corri verso i monti di fragole Ok, quindi sarà una gara di velocità Guardate che roba È tutta la mappa E già, ragazzi, assomiglia a quello che vi dicevo È 3, 2, 1 Oh, un attimo Oh, cavolazzo Ok, si inizia subito Oh mio Dio, è troppo divertente Ok, quindi Bisogna cercare di arrivare Prima degli altri Al traguardo, eh È molto difficile, ragazzi Ok, qua che è sto coso? Oh, cavolazzo Che ho preso? Dei bonus Ok, con R un peperoncino piccante Vediamo che fa Wow Vado super veloce Ok Qua che è? Un muro È un muro di biscotti Ma fammi passare Ma guarda un pochettino Mi hanno raggiunto Ok, ragazzi Devo fare molta attenzione Lo scopo di questo gioco È cercare di fare Ingrassare Il proprio Kirby Il più possibile No, sono cascato di sotto Cavolazzo Mi devo muovere Ok, tornato Dai, 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 dai Mangiamo Buonissimo Ok, abbiamo 16 fragole Muoviamoci Ma porca miseria Qua ogni volta così Ci deve essere un biscotto Che mi rallenta Dobbiamo muoversi Oh mio Dio È troppo divertente Non devo far passare gli altri Toglietemi dalle scatole Quello lì ha due peperoncini Oh mio Dio Fortuna che non li sa usare Ok 25 fragole Dai, togliti Maledetto fungo Oh, cavolazzo È troppo divertente Tornato Vai Cerchiamo di mangiare Il più possibile Oh mio Dio 27 fragole Vediamo sto coso Che ci fa andare più veloci Maledetti Mi hanno fatto andare di sotto Cavolazzo No, siamo arrivati No, lo voglio io la torta No, mi hanno fregato la torta E mi devo accontentare di quella No Ragazzi Non ci siamo qualificati Se avete visto Sono stato primo tutto il tempo E quello lì mi ha fregato la torta più gigante Ma non ci posso credere Cioè, non ci posso credere Eh, che bisogna fare qua Ma che è? Oh mio Dio Ma che è? Ma fatemi passare qua Oh, voglio stare io qua dentro Che bisogna fare? Che cavolo bisogna fare? Bisogna stare qua Fragole Ok C'è lo scopo del gioco E cercare di mangiare il più possibile È assurdo Ma è fantastico questo gioco Ok, toglietevi dalle scatole Per piacere Devo essere io il più cicciotto Oh, fragole Guardate quante No Che cavolazzo Quanto ho mangiato? Solo 31 fragole Se ragazzi sono quarto Corri verso i monti di fragole Ok Un'altra volta 3, 2, 1 Go Vai Kirby Vai Kirby Vai Kirby Forza Allora vediamo Lì ci sono dei mostri fragola Se vedete Domino Tutta la partita Grande Ho mangiato un sacco di fragole E mi superano all'ultimo Se guardate comunque la mappa È fatta solamente di dolci Ok Oh, piano Oh mio Dio Stavo per cascare Ragazzi non immaginate Ma è difficilissimo È difficilissimo Ok, devo stare attento Ma toglietevi dalle scatole Le mie fragole Se guardate che prepotenti No Siete dei prepotenti Dei Kirby prepotenti Guardate quello Ho mangiato così tanto Ma toglietevi dalle scatole Cioè ragazzi Non è possibile Non è possibile Almeno devo cercare di arrivare a podio Mamma mia È difficilissimo rotolare Ecco pure il fango Ma porca miseria C'è pure il fango Dammi questo bignè Ma non potevo mangiarlo No, vabbè ragazzi È imbarazzante Come prima partita Non ci siamo proprio, eh Come prima partita Non ci siamo proprio Guardate i canditi Toglietemi dalle scatole Kirby cicciotti Oh mio Dio Via Saltelliamo Guardate che bello È fantastico Via, 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 via Lamponi Oh mio Dio Le torte Dai, 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 dai Devo stare attento, Tornado Usiamo Tornado Fammi già il Tornado Devo restare primo Sono primo, oddio sono il più grande Sì, sono super ciccio Sono super ciccio Oh no, porca miseria, mi ha fatto andare giù No, no, sono un secco Sono qui, sono primo Ancora, Tornado Tornado, dammi tutte le fragole Ancora, quanto manca 40 secondi ragazzi, sono ancora più ciccio Non ci posso credere, questo gioco È l'erede di StumbleGuys, ve lo dico È l'erede di StumbleGuys, cioè è troppo divertente A parte che mi fa venire un sacco di fame Non giocate a questo gioco prima di pranzo Mi raccomando, spino Meno 20 fragole Ti ha messo KO, maledetto E dammi Tornado, dai, 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 manca poco 20 secondi, pigliamo tutti i bonus Vai Kirby, bella maccia Oh mio dio, quante fragole È più grande, guardate Sono super ciccio Sono ciccio, no E che cavolo però, eh Così non è mica valido 3, 2, 1 E la vittoria è di Kirby Il ciccio, bella pazza Che bontà Guardate quanto è felice di aver mangiato così tanto ragazzi Ok, la bilanza Risultati La cosa divertente è che ci si deve pesare E chi è più ciccio vince Ok, più lamponi mangiati Più mucchi, fragole, ok Perché danno i bonus No, piano Oh mio dio È parezzo No Sono io il più ciccio Ma come, 2 a pari merito Ho vinto Pari merito Non ci credo Pari merito ho vinto Mamma mia, 231 fragole mangiate No, vabbè ragazzi È troppo divertente Per favore Lasciate tanti mi piace E facciamo tantissimi altri episodi Perché questo gioco merita È bellissimo È l'erede di StumbleGuys Oppure copie StumbleGuys Ok Che ho trovato? Durante la gara Ora puoi ascoltare il brano Country al Caramello Ok Fantastico Costumo ottenuto Bello questo Ottimo lavoro Ottimo, ottimo, ottimo Allora Siamo a livello 5 Che è questo? Dolce personaggio Ok Ma quante missioni Quante cose ho sbloccato Fantastiche Ok Kirby caffè Non so se ci sia anche la modalità storia comunque Gioca di nuovo Cambio costume Torna alla tavola iniziale Allora vediamo Collezione dolci personaggio Ci sono anche le skin Dovevi vedere Decora la torta No vabbè posso decorare la torta Ma che è? Ma cosa? Con questo? No che carina Ok Molto bellina Poi vediamo di qua che cosa abbiamo? Menù ricompense Ok qua ci sono tutte le ricompense Guardate che belle E possiamo sbloccare tutte le skin Se guardate Kirby Addirittura con un hamburger sopra la testa ragazzi Ma dai ma è fantastico questo azoco Poi costume e colori Ok possiamo modificare il nostro Kirby Vediamo abbiamo sbloccato questo con la bandana Bellissimo Vediamo Verde Ok tutto verde Bello Ci piace tutto verde Ok quindi Kirby lo teniamo verde Che carino Kirby verde Allenamento libero No grazie Ok andiamo a fare un'altra partita Comunque voglio sapere chi di voi gioca alla Nintendo Switch Ragazzi ok E magari più avanti potremmo giocare un gioco tutti insieme Magari creando delle stanze Qualcosa del genere ok Perché ci sono un sacco di giochi bellissimi Hamburger Menù del giorno Hamburger Oh mamma mia C'è tutto il menù del giorno Corri verso i monti di frago Oggi non so parlare comunque si Svegliati me la faccia Guardate quanti hamburger No vabbè ragazzi Ma che mappe ci sono Ma che mappe ci sono Ok 3 2 1 Andiamo Togliatevi dalle scatole Via Mi dico il bacon Ragazzi c'è il bacon L'hamburger Con l'anana sopra Ma che schifo Che gli asparagi Mi dico gli asparagi No sono cascati sotto No 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 Dai muoviti E io che guardo il cibo Sopra le uova Oh mio dio fa troppo ridere Sopra le uova Muoviamoci Tornado Fa troppo ridere Oh mio dio sopra il pomodoro Ma è così realistico È così realistico Mi viene troppa fame Asparagi Oh mio dio sono il più grande Il più grande è grosso Sì sopra la cipolla Dentro la padella Siamo dentro la padella Ascorta Oh mio dio vai 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 Kirby Vai Kirby Vai Kirby Vai Kirby Che sembri un broccolone Forza 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 Ok rompiamo il biscotto Ecco qua Fantastico Dai dai muoviti Muoviti Non ho capito come rompere sto coso Velocemente Ok togliti dalle scatole cicciotto Sono io il più ciccio della lobby Ok continuiamo Vediamo ma che è qua Non si può neanche cambiare visuale No sopra la mostarda Toglietevi dalle scatole Mamma mia che ingordi Questi Kirby sono assetati di cibo Non vedono l'ora di mangiare Ok come faccio ad andare Toglietevi dalle scatole Ehi Oh oh ma togliete Ma guarda un pochettino Ehi Posso scrivere Ehi Ehi Come osi Ok Sopra il pomodoro Ci sono le torte fra poco eh Ok peperoncino veloce Toglietevi dalle scatole Ok ci siamo quasi Attenzione alla mostarda Porca misera Il cetriolo Ma quante cose da mangiare ci sono Ecco le torte Le torte le torte le torte le torte Vai Torta 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 Vai 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 Mangia mania 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 Sì Il più grande e grosso E bella faccia Yeah Proprio così Ok ottimo 83 fragole Guardate quanto siamo Sici eh Ok Mangia le fragole che cadono Ok 20 secondi Ok che ridere Ok non devo cascare di sotto eh Altrimenti Mi tolgono le fragole Se siamo sopra una torta ragazzi Guardate Toglietevi dalle scatole Cicciotti belli Che è quel coso Saranno le bombe No Tre fragole Con un biscotto Ok Fragole Fragole Mamma mia questo gioco Ti fa uscire pazzo Ti fa uscire fuori di testa Pure le bombe si sono eh Ok Siamo ancora primi Con 98 fragole Ottimo Ottimo Dominiamo Dominiamo la partita Corri verso i monti di fragole Ok che è qua Ma che è il rotolo La nutella Mamma mia ci sono i rotoli E la nutella Oh toglietevi dalle schiatole Belli Non avete capito niente eh Toglietevi Ecco qua Oh mamma mia Ma questi sono saprimi Ma con chi pensate di avere a che fare Che è sto coso La soccolata fondente Toglietevi Cavolo Via Non sopra la panna La panna mi rallenta La panna mi rallenta Rompi 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 Andiamo Vamos Vamos Se sembra super mario Di chi ha fame qua eh Ok Si Se ragazzi io sono concentratissimo Sembra facile Ma guardate Se questo gioco E' ultra difficile Guardate E' ultra difficile C'è casco da un momento all'altro Giù Togliti No togliti Toglietemi dalle scatole Mamma mia Sono agguerritissimi Tornado Togliti Si Tornado Tornado Si Ok Pigliamo più fragole possibili Non vedo ancora la fine Non vedo ancora la fine Ok peperoncino Ok sono il più grande Che palla di ciccia che sono Sono una palla di ciccia Si Vai Mamma mia che super record Vai Gira 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 Mangia Uuuuh 177 fragole Oh mio dio Sono il più ciccio della lobby Ma ancora posso prendere le fragole Ma che cavolo C'è questo gioco è tutto un magna magna Ok C'è quell'arancione che mi sta le calcagne Portata principale Vinci la battaglia Oh mio dio che è Sono su un toast Ok che devo fare qua Le fragole Non devo cascare di sotto Cercheranno di spingerti in ogni modo Bella faccia eh Togliti dalle scatole maledetto Sono io il più ciccio del gioco Hai capito Ok che è sto coso Che è pietra Oh aiuto Aiuto R Ok R Diventa una tavoletta di cioccolato No vabbè potevo buttarlo di sotto No 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 che è sto coso No 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 via Le tenaglie Oh mio dio sono una palla Sono una palla No Porca miseria mi ha buttato di sotto Ok 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 calma bella faccia calma Piglia sto bonus 34 secondi ancora eh No 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 tenaglie belle Ma guarda un po' Vengono dal primo Chissà perché No 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 di sotto No No maledetto Dai dai vola 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 No Che cavolo Mi ha messo KO Mi stanno cavando una marea di fragole Mi stanno cavando una marea di fragole Togliti Togliti maledetto Ma tutte da me queste tenaglie Ma non è possibile In sto gioco devi stare attento al 100% Se altrimenti i ragazzi Ti buttano giù in un baleno eh Ok togliti Togliti che sono il più grosso E ciccio della lobby Oh mio dio Quello spinoso Dai 3 2.39 Ok tempo bonus No No tenaglie No 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 Aiuto 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 Ok gelatina Che fa gelatina? Ok sono una gelatina Mamma mia sono così ciccio Che non riesco neanche a muovermi eh Che bontà Ok 265 fragole Troppo ridere ragazzi Ok ma Era già la finale Ok ho vinto Cioè qui ho stravinto Ho stravinto No non dargliela lui No cosa? No No vabbè Ma guarda te mi ha battuto Se mi ha battuto questo Assurdo Guardate che cicciotto 332 fragole E io 265 Ok Complimenti Kirby Manzone Ragazzi io spero tanto che questo video vi sia piaciuto Fatemi sapere se volete un altro episodio Perché è troppo divertente Dabbe la bacia E Kirby Che sì È felice Perché ha mangiato veramente tante fragole E tutto E ci vediamo in un prossimo video Ciao 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 Ciao